Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Un sorprendente filmato di un UFO in orbita sopra la Terra è stato catturato dalle telecamere della NASA. L'incredibile video, catturato appunto dalla telecamera live dell'Agenzia Spaziale Americana, vede l'oggetto a forma di cono tenere il passo con la Stazione Spaziale Internazionale. In un bizzarro colpo di scena, la telecamera della NASA ingrandisce l'oggetto, mostrando che l'Agenzia Spaziale Americana riconosce l'UFO. Il filmato è stato pubblicato dall'appassionato UFO Scott Waring ed è diventato virale sui social media. Il filmato, di 22 minuti, mostra l'UFO delle dimensioni di un autobus che si muove alla stessa velocità della Stazione Spaziale Internazionale. Alla fine del suo tragitto si vede l'UFO sparare verso l'alto e scomparire, lasciando dietro di sé una luce verde. Tutto inizia durante le riprese della NASA, mentre i lavoratori dell'Agenzia Spaziale discutono della manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, ad un certo punto, la telecamera live della NASA improvvisamente nota qualcosa laggiù e inizia a ingrandirla. Ma di questo incredibile avvistamento ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. Queste le affermazioni di Scott Waring. Stavo guardando la telecamera della Stazione Spaziale live della NASA quando ho notato che la telecamera ingrandiva uno strano oggetto proveniente da sotto la Stazione Spaziale. All'inizio ho pensato che fosse una specie di capsula o un satellite, ma la sua velocità è aumentata e dopo 22 minuti è esplosa nello spazio profondo. Credevo che se fosse stata una capsula sarebbe andata in orbita terrestre bassa e poi sarebbe atterrato. Ma quando questo oggetto ha sparato verso l'alto nello spazio profondo mi ha letteralmente stupito. Potrebbe trattarsi di un'astronave aliena oppure di una tecnologia aliena top secret USAF. La forma dell'oggetto è simile a un cono appuntito nella parte posteriore e arrotondata nella parte inferiore. La velocità sembra perfetta in sincronia con la Stazione Spaziale per oltre 22 minuti. Vi lascio al video e ai vostri commenti di cosa ne pensate. Tenete presente che non è un video modificato in quanto è pubblicato sul sito ufficiale della NASA. Buon proseguimento, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.